Saluto, buongiorno e benvenuti alla rassegna stampa del mattino. Sono le 7 e questo è Occhio ai giornali, il commento alla stampa, il commento alle pagine che abbiamo selezionato questa mattina per voi e che servono per farvi uscire di casa informati. Ed è sempre una buona cosa, poi dopo sì, visto anche questo mini lockdown, restate a casa meglio ancora perché come ci dicono gli esperti in questo momento la cosa ideale sarebbe evitare il più possibile di incontrare gente. Ecco, questo è quello che dobbiamo fare, evitare di incontrare gente, evitare di uscire di casa se non è necessario. Quindi questa è l'unica arma che noi abbiamo e lo diciamo già di prima mattina. Poi parleremo poco questa mattina del Covid e ve lo dico già in anticipo perché altrimenti va a finire che arriviamo a Natale con una testa così. Allora, cominciamo con il santo del giorno, lo vediamo subito oggi, è San Germano di Capua. Il sole è sorto, anzi, alle 6.45 e tramonterà alle 17.03. Per quanto riguarda il tempo invece c'è poco da dire, anche oggi le previsioni mettono, secondo il bollettino della protezione civile delle Marche, cielo sereno un po' conuvoloso, attenzione alla nebbia nei fondovalle di prima mattina, così come domani, ultimo giorno dell'anno, sabato 31 ottobre, avremo cielo sereno sulla costa con qualche possibilità di foschia. Poi il primo di novembre invece è il giorno di festa per tutti i Santi, sereno o poco ruvoloso, con temperature senza variazione di rilievo. Il tempo sarà stabile ancora nei prossimi giorni, quindi anche per il 2 di novembre. I titoli dei quotidiani, i due quotidiani, anzi, sono il Corriere Adriatico e il resto del Carlino con le edizioni di Pesaro. Allora, la fotonotizia del Carlino questa mattina è per il Natale pesarese. Il sindaco Ricci annulla il mercatino, pista di ghiaccio e spettacoli, sarà dunque un Natale in sordina. Contagi, un morto, scatto del virus in provincia, la vittima numero 525, non accadeva da giugno. Sono 62 positivi e 15 classi in quarantena. La vittima è un novantenne di Fano con patologia pregresse. Poi timidi aperitivi serviti in anticipo, poi cano serrande tristezza, è la città che chiude alle 6 di sera. Dalla prima sempre del Carlino, cani in carcere, più affetto e meno tensioni per le detenute. Si parla della pet therapy, la cosiddetta terapia degli animali. E poi magnifico rettore Urbino, Giorgio Calcagnini, si è insediato al posto di Stocchi. Tra i dilettanti, volley, isola felice, basket, fermo e boxe. E così si divide lo sport giovanile. E poi un ex dirigente che è finito a processo, appalto pilotato, una ditta viene esclusa due volte. Strage di Corinaldo, le motivazioni della condanna dei sei modenesi. Criminali seriali, non banda unica. Non c'è prova che fossero un'associazione. E poi sangue e arena in centro. A Pesero arriva la polizia, colpi di catene, scontro furioso tra migranti in via Safi, protagonisti due giovani africani. Il Corriere Adriatico invece, per la seconda volta, nel giro di qualche giorno, lo aveva fatto qualche giorno fa, i nostri telespettatori più attenti se lo ricorderanno, aveva titolato in qualche modo sul Covid e aveva invitato a essere più decisi e quindi fare un lockdown regionale più stringente, più deciso. E oggi torna con un titolo, andiamo a vederlo, un titolo che, insomma, lascia un po' così. Che cosa stiamo aspettando? Ma cosa stiamo aspettando? Ieri nuovo record di contagi, 686, 4 morti, ricoveri in terapia intensiva raddoppiati in una sola settimana, gli ospedali si affollano di pazienti, attendere i risultati delle misure del governo potrebbe essere rischioso, dunque, e il perché di questo titolo lo spiega Lorenzo Sconocchini in questo articolo qui di spalla. Allora, leggiamolo perché sarà l'unico che più o meno riguarda il Covid nella nostra rassegna stampa di oggi. Allora, più grande l'incendio, questo è il ragionamento che fa il Corriere Adriatico, che non è sbagliato, ma, voglio dire, va un po' controcorrente rispetto al resto del mondo. Più grande l'incendio, più tempo per spegnerlo. Chiudere adesso per rieprire prima. Quando il nostro giornale lanciò questo appello, comparso nell'edizione di sabato scorso, nelle Marche c'erano poco più di 3.000 positivi al coronavirus, tra isolati in casa e ricoverati. Negli ospedali erano assistiti 174 pazienti Covid, 22 dei quali in terapia intensiva e 9 in aree semi-intensiva. Sei giorni dopo, con il bollettino di ieri, i positivi attuali nelle Marche sono diventati 2.000 in più. I ricoveri sono saliti a 286, le terapie intensive assistono 39 pazienti gravi e altre 52 lottano contro il virus nelle aree semi-intensive delle coviderie. E il virus ha ucciso altre 9 persone. Ora, forse sarà più chiaro il messaggio lanciato dal Corriere Adriatico. Con un incendio in corso non c'era tempo da perdere, bisognava soffocare quanto prima i focolai, chiudendo tutto quello che era possibile chiudere, senza far inceppare la macchina dell'economia per un tempo reso accettabile dai ristori di Stato e senza riempire gli ospedali oltre il punto di stress che costringe a sacrificare per accogliere i pazienti contagiati il resto della sanità. Da quell'appello è passata quasi una settimana e aspettiamo di vedere il lockdown del tempo libero, lo chiama così, oppure al tiramisù, come dire, un po' leggero, dolce, e non certamente come è stato quello, il primo lockdown. E quello della didattica a ristanza. Sì, e soprattutto vedremo se riusciranno a piegare la curva dei contagi e dei ricoveri. Ci vorrà dunque un'altra settimana per comprendere gli effetti delle restrizioni in vigore da lunedì scorso, sperando di non dover aggiungere, ve l'avevamo detto. E questo è il motivo per cui anche i lettori del Corriere Adriatico di questa mattina, che compreranno il giornale in edicola e che leggeranno le pagine del Covid che noi oggi saltiamo, capiranno insomma un po' il motivo di questa decisione, di fare un titolo, di invitare comunque la Regione a essere, di andare un po' controcorrente rispetto agli altri, o comunque andare, di essere quindi magari probabilmente di chiudere di più, di lasciare solo i servizi essenziali. Ma noi invece questa mattina apriamo la rassegna con il pestaggio di questa donna poveretta di 35 anni, georgiana, aggredita mercoledì mattina, poco dopo le 7.30, sul lungomare Mamili di Senigallia, all'altezza dei giardini del Fanciullo. Ora, in molti, ieri ascoltando questa notizia, leggendola anche sul giornale, insomma si sono domandati che cosa può aver scatenato la furia di quest'uomo o addirittura una donna, perché forse potrebbe, queste sono le indagini, ancora sono in corso, potrebbe essere stata picchiata anche da una donna, ma ancora non si capisce bene, perché si aspetta in qualche modo che questa 35enne georgiana, questa vittima, possa parlare in qualche modo agli investigatori e dare qualche informazione, perché adesso chiaramente si scava nella vita privata. Questa donna è stata colpita, lo ricordiamo, da calci, pugni che le hanno danneggiato alcuni organi vitali. Lei lavora saltuariamente come badante, fa la donna delle pulizie, stava rientrando a casa dal lavoro, ieri mattina alle 7.30, l'altra mattina, quando improvvisamente è stata fermata ed aggredita, colpita calciapugni, come ha detto, ieri è uscita dalla rianimazione, ma resta in prognosi riservata, adesso è all'ospedale di Senigallia. Indaga la polizia, non è da escludere che possa essere stata una donna, escluso invece l'utilizzo di una mazza. La pagina di Fano del Carlino, la fondazione Cassa di Risparmio di Fano nel 2021 stanzierà a 920 mila euro, quasi un milione di euro, significativa la cifra destinata al finanziamento della piscina, annunciato l'avvio della ristrutturazione del futuro palazzo della cultura, aiuto ai più deboli, assistenza ai malati, all'infanzia, ai portatori di handicap, boccata d'ossigeno, attenzione rivolta anche a volontariato, filantropia, beneficenza e cultura. Poi il Correa Adriatico, c'è quasi un milione per le erogazioni, la fondazione Carifano, aiuta la sanità, il documento programmatico 2021 prevede 920 mila euro, per la città 230 mila euro alla salute pubblica. Mentre al cimitero si va senza gel e mascherine, sul viso pensionato segnala una scarsa attenzione e la mancanza di controlli. Siamo al cimitero di Fano. Da Fano invece il Corriere, la strada di Gimarra una priorità, questa è un'occasione irripetibile, il Vice Sindaco replica al Movimento 5 Stelle sulla nuova viabilità, un progetto che risolve due problemi storici. Poi sotto, città con troppe barriere architettoniche, confronto sul da farsi, attenzione, è diversamente abili nelle nuove costruzioni, ma edifici ancora troppo inaccessibili. Il Vice Sindaco, a difesa della variante di Gimarra, Fanesi ribadisce l'occasione straordinaria e forse irripetibile di poter usare 20 milioni di euro di fondi europei per migliorare la viabilità. Il tracciato consente di collegare il quartiere con la città. Intanto si parla di Natale. Come sarà il Natale dei Fanesi? Tra poco vedremo anche quello dei pesaresi, ma l'albero in piazza è ufficiale, ci sarà, quindi questa è una buona notizia, perlomeno questa, insomma l'effetto Covid sul Natale insomma ci sarà anche da noi. Per evitare sembramenti Pesaro ha già deciso, scrive il giornale, di cancellare mercatini natalizi, pista del ghiaccio e spettacoli. Fano invece si prende ancora un po' qualche giorno di tempo. Fano sicuramente accenderà le sue luci, dice l'assessore all'attività economica del Comune di Fane Tien Lucarelli e cercherà di fare quanto possibile anche attraverso l'abbellimento della città. Soprattutto cercheremo, dice Tien Lucarelli, di essere vicini alle tante attività che soffrono in questo momento storico. Abbiamo bisogno di dieci giorni di tempo per definire che cosa fare e come farlo anche in attesa di eventuali nuove disposizioni governative. Non ci sono ancora decisioni definitive prese, ma insomma non si sa neppure se il presepe di San Marco per esempio, dove comunque i tecnici della sicurezza hanno già effettuato i sopralluoghi necessari potrà riaprire e quindi bisognerà aspettare ancora qualche giorno e poi sapremo sapremo come sarà il Natale qui a Fano. Intanto la pagina di Urbino del Corriere, del Carlino Università inizia l'era di Giorgio Calcagnini ieri il passaggio delle consegne di Alberto Stocchi dice tra i risultati più importanti l'aumento delle immatricolazioni ovvero più dell'11% qui in alto Calcagnini poi sotto invece con le rispettive mogli Stocchi che è il rettore uscente e poi Calcagnini con la consorte che appunto posa in questa fotografia. Applausi un piano contabile da record Stocchi saluta il tocco rosso va a Calcagnini eccolo qua tocco rosso e poi passaggio del testimone tra i rettori in dote un patrimonio netto passato da 40 a 85 milioni di euro in 6 anni poi sotto Midor calendario d'autore siamo a Fermignano promuove la città l'idea dell'azienda sarà spedito ai clienti clienti che questa azienda ha in tutto il mondo quindi possiamo dire che è un modo anche per promuovere il territorio alcune copie sono disponibili presso la Proloquo il fotografo Gulini di Fermignano già si sta pensando alla versione 2022 che sarà presentata il 29 ottobre del 2021 alla presentazione c'eravamo anche noi vi faremo vedere poi un piccolo speciale nei prossimi giorni c'era anche il sindaco di Fermignano Emanuele Feduzzi andiamo sulla pagina di Fano del Corriere criminali seriali e senza scrupoli dopo Corinaldo tutto come prima strage della lanterna azzurra ecco le motivazioni della condanna della banda dello Spray la banda dello Spray con le fotografie pubblicate sul Corriere di questa mattina un'organizzazione a geometria variabile ma senza vincolo associativo stabile le lacune della sicurezza del locale hanno agito in sinergia con gli autori del Blitz criminali di professione titolo del Carlino pronti a tutto depositate le motivazioni della condanna dei semodenesi che spruzzarono lo Spray nella discoteca di Corinaldo provocando sei morti e poi andiamo a Pesaro anche qui c'è una cosa che è successo un episodio di cronaca che è successo così con vedete del sangue a terra l'aggressione è avvenuta ieri sera in via Saffi all'ingresso di uno studio legale dove era atteso il 25enne africano ferito alla testa malmenato con una catena sangue in centro sono accorsi un'ambulanza del 118 e due macchine della polizia poi andiamo sulla pagina di 18 del resto del Carlino vedete la foto di Ucchielli a Montecchio Ucchielli chiude Luna Park emergenza sanitaria il presidente dell'Unione dei Comuni di Pian del Bruscolo decide di revocare l'autorizzazione agli spettacoli viandanti sarà un Natale diverso ma non perso solo luminarie e l'albero in piazza Ricci cancella i mercatini e la pista di ghiaccio insieme agli eventi e alle iniziative per bambini l'ultimo sprizz e la città muore alle 6 di sera viaggio nel coprifuoco con aperitivi serviti in anticipo prima che calino serrande e desolazione sembra di essere in un quadriopper queste sono le fotografie scattate a peso il gestore della bottiglieria dice devo pagare le spese del lockdown dire che sono preoccupato è poco negozi nel mirino ladri scatenati affano in centro tre attività colpite in meno di 24 ore cresce la paura tra i titolari i malviventi si attaccano anche a pochissimi spiccioli tre attività del centro storico colpite in meno di 24 ore un'escalation di razzie in partita mezzanotte da via Cavour e arrivata in piazza Andrea Costa passando alle 21 per via Le Gramsci un negozio di genere alimentare naturali un centro estetico ed una pescheria gastronomia unite dalla malasorte nei primi giorni di attuazione del DPCM che chiude le attività alle 18 spopolando il centro città le voci dei commercianti spero che le forze dell'ordine aumentino la sorveglianza e sotto si parla invece dello stadio Mancini lo stadio di Fano che tornerà a risplendere aperto il cantiere per ristrutturarlo invece contro il biodigestore all'ex Pica di Pesero noi siamo pronti a fare le barricate volantinaggio casa per casa del comitato di Borgo Santa Maria e Marche Multiservizi chiude le discariche di Casprete e di Caluccio test rapidi side pediatri e medici di famiglia finalmente l'accordo nel nostro territorio ha aderito il 70% dei professionisti somministrazione a domicilio o in luoghi idonei e poi per la riammissione a scuola c'è un'autocertificazione che comprende un modulo praticamente unico a Fossombrone nella lista Covid Fossombrone entra nella lista Covid ma l'ospite sarà mantenuto l'area vasta sulla conversione dell'ospedale di comunità segnalata da Santa Martini il nuovo appunto assessore regionale della sanità disabile intrappolato dal parcheggio selvaggio sempre Fossombrone ascensore per la cattedrale reso inagibile dalle automobili Valcesano strada Monterolo rieperta a quasi tre anni dal dissesto ingegneria naturalistica in attesa dell'opera di consolidamento dell'intero versante poi sotto blackout a Mondolfo metà delle vie resta al buio salta l'illuminazione pubblica a Mondolfo mobilità pedonale a rischio cani in carcere cani in carcere il loro affetto per le detenute progetto di pet therapy al via a Villa Fastigi con un labrador l'istruttrice dice aiutiamo a liberarsi dai pregiudizi e quindi a Rebibbia per esempio Pisa Ancona Bollate da tempo hanno adottato la sperimentazione quindi animali che servono anche in qualche modo per far star meglio le persone che si trovano in carcere gli animali riducono le tensioni e il rischio di azioni violente la direttrice del carcere che vedete in questa fotografia della casa circondandiana Armanda Rossi è comunque soddisfatta a lei piace questo progetto e quindi entra in campo ora andiamo adesso un attimo ad Ascoli perché si parla di Monsignor Giovanni D'Ercole Vescovo di Ascoli che a un certo punto ieri mattina con un video shock ha annunciato le sue dimissioni a 73 anni per cui ancora per altri due anni avrebbe potuto portare avanti la diocesi di Ascoli però in anticipo il 13 ottobre scorso Monsignor D'Ercole ha presentato le sue dimissioni a Papa Francesco lo ha fatto qualcuno i più attenti chiaramente magari avevano già annusato un po' questa situazione che sarebbero prima o poi arrivate però per il resto insomma è un po' un fulmine a ciel sereno è stato un fulmine a ciel sereno ieri mattina ha scosso questo annuncio la diocesi di Ascoli di tutta la città il vescovo D'Ercole 73 anni compiuti da poco si è dimesso è stato lui attraverso un video a spiegarne i motivi le decisioni le dimissioni erano state presentate il 13 ottobre il pontefice ha contestualmente nominato amministratore apostolico Monsignor Domenico Pompili vescovo di Rieti dal terremoto lui dice vado in monastero in Africa dal terremoto alla pandemia sono stati anni difficili per Monsignor arrivato nel 2014 vi prego di considerare a detto D'Ercole questo gesto come un atto di fede ci sono stati qualcuno si domanderà perché perché se ne va due anni prima che cosa c'è qual è il motivo quali sono i motivi allora il giornale ne cita alcuni io mi limito ad un caso per esempio un caso di cronaca che ha scosso la diocesi alcuni anni fa dunque in ordine di tempo l'allontanamento di padre Alberto Bastoni suo stretto collaboratore indagato per detenzione di cocaina che nascondeva nella teca delle ostie e per possesso di materiale pedopornografico questo è uno per esempio dei tanti di alcuni episodi di cronache che sono appunto che hanno segnato la vita di questa di questa diocesi e chiaramente del suo pastore ora Fioravanti Fioravanti è il sindaco di Ascoli che però ha subito ringraziato appena ha saputo di questa di questa di queste dimissioni ha ringraziato Monsignor D'Ercole ora arriva Domenico Pompili lo vedete nella fotografia Domenico Pompili per qualche mese sicuramente fino a gennaio sarà lui Vescovo di Rieti che da ieri è stato nominato amministratore apostolico da Papa Francesco a guidare la diocesi dall'ottobre 2005 è stato nominato aiutante di studio della segreteria generale della Scei tra l'altro ho avuto modo di conoscerlo di frequentarlo a Roma per alcuni anni quando seguiva i vari direttori delle televisioni cattoliche italiane quando ci si riuniva a Roma c'era anche lui quindi abbiamo avuto modo di conoscerlo è una è una bella persona e dunque auguri di buon lavoro anche a Domenico Pompili andiamo adesso invece a Urbino perché 70 anni fa nasceva il cinema Ducale il cinema Ducale che quest'anno però festeggia un settantesimo diciamo senza spettatori qui qui gli urbinati trovarono il sorriso il 30 ottobre del 1950 la prima proiezione fu non c'è pace tra gli ulivi un pezzo di storia praticamente della città sono ancora oggi sorprendenti le tecniche di costruzione di questo cinema la volta di ferro è fatta pensate con i binari della ferrovia ecco qui alcune foto belle significative di questo cinema cinema appunto storico di Urbino guardate le volte sopra fatte appunto con i binari della ferrovia restando Urbino va in pensione invece la signora della storia Giuseppina Paolucci figura di riferimento per gli studiosi che frequentano l'archivio di stati di Urbino che da sabato lascerà il servizio dal 1978 ha catalogato riordinato conservato numerosi fondi notarili giuridici catastali anagrafici dall'epoca Ducale del Novecento la vedete in questa fotografia e sotto ancora appunto mentre è nei suoi ambienti lavorativi lasciarsi andare un omaggio a Fellini siamo sempre sul Corriere Adriatico parleremo di questa ragazza di una di questa ragazza di Fano che ha scritto che canta questa canzone dal titolo lasciarsi andare la vedete qui sotto davanti al microfono eccola qua in questo quasi primo piano il canto d'amore di una giovane adolescente per la sua città Asia Antonietti una studentessa fanese di 14 anni si accosta alla musica all'età di 8 anni per trasformare il dolore in gioia un'infanzia segnata dalla separazione dei genitori e con la prematura morte della nonna alla quale era molto affezionata seguita anche dalla morte del padre e superando il periodo di disorientamento Asia ha trovato nella musica e nel canto quella dimensione rassicurante che compensava le dolorose perdite oggi frequenta la scuola di canto pianeta musica di Pesero diretta dal maestro Davide Di Gregorio seguita dall'insegnante Vanessa Chiappa e dunque il sogno di Asia è quello di donare emozione alle persone con il calore della sua voce scrivendo dei testi che raccontano la vita iniziando da questo primo inedito che si intitola lasciarsi andare e che sarà presto in uscita di cui parleremo anche noi prossimamente qui su Fano TV chiudiamo con lo sport VL torneo sull'orlo di una crisi di nervi parliamo di basket conti in rosso per la mancanza di pubblico la società le società chiedono aiuto al governo e se la pandemia accelera c'è anche il rischio di chiudere di nuovo tutto quanto e quindi insomma punto a capo allora la nostra segna stampa termina qui io vi auguro una buona giornata vi do appuntamento oggi a questo pomeriggio anzi stasera alle 20 e 30 con il telegiornale stavo pensando al pomeriggio perché vi ricordo che abbiamo in palinsesto il pomeriggio e anche al mattino abbiamo gli appuntamenti nuovi con la ginnastica dolce abbiamo detto all'inizio della rassegna stampa che sarebbe il caso di non incontrare gente in questo periodo quindi di aiutare insomma questa curva a scendere a tornare giù e quindi a non intasare gli ospedali a non contribuire ad aumentare i contagi e quindi restando a casa non ci si può fermare su un divano o sulla sedia quindi ci sono queste nuove puntate di Anziano Sarei Tu che vanno in onda al mattino e al pomeriggio io mi fermo qui grazie per averci seguito buona giornata a tutti voi grazie a tutti